Che parliamo oggi con lei di un argomento che coinvolge tre milioni di italiani, un numero abbastanza consistente, non sono pochi. Parliamo di emorroidi, tutti noi ce l'abbiamo, però quando diventano, esattamente che cosa sono? Oh, dire tutti noi ce l'abbiamo è spaventato tutti, Monica. In realtà il plesso emorroidario, cerchiamo così di spiegare in modo semplice. Ma voi siete medici, io sono una paziente. Il plesso emorroidario è un qualcosa di fisiologico che serve, è importantissimo. È importante perché? Perché entra in quel meccanismo molto complesso che è la continenza. Sono dei cuscinetti che sono all'interno del canale anale che servono, concorrono, Monica, alla continenza. Però poi per svariati motivi... Quali sono le cause? A un certo punto fuoriescono. A un certo punto, per dei motivi X, che adesso magari li vedremo insieme, questi cuscinetti che di solito devono stare all'interno del canale anale, vengono spinti fuori. Vengono spinti fuori perché? Perché cambiano un po' le abitudini, soprattutto si fanno delle cose che, ma involontariamente, che rendono la spinta evacuativa, cioè quando andiamo al bagno o altre cause, per cui questi cuscinetti che normalmente devono stare all'interno escono fuori. Allora, diamo un po' un elenco di queste cause. Abbiamo preparato dei cartelli per evidenziare le cause principali che possono portare a questa cosa. Allora, diciamo che le cause, fondamentalmente le cause che noi stiamo vedendo, un po' la familiarità. La familiarità ci sta, nel senso che chi ha un familiare di primo grado che soffre di patologie venose, possono essere anche le varici degli arti inferiori. Comunque delle patologie venose hanno una tendenza leggermente di più a avere questo tipo di malattia. Ricordiamo che la malattia del plesso immunitario è una malattia del sistema venoso, questa è la prima cosa che dobbiamo dire. Lo stile di vita è fondamentale, per cui la vita sedentaria, l'obesità, lo stazionare troppo, per esempio, la mattina al bagno, perché hanno magari delle abitudini di leggere, di giocare con i telefonini oggi. Ecco, queste sono delle abitudini che bisogna proscrivere assolutamente. Così come la stipsi, la stitichezza, che è favorente, perché lo stitico, tra virgolette, deve spingere molto per poter andare al bagno. Che cosa succede nel momento in cui si spinge per andare al bagno? Si fanno, per esempio, degli sport in cui si aumenta la pressione dentro l'addome. Di solito, non di solito, il sangue dal plesso venoso deve andare verso il cuore, cioè deve salire, no? Se noi spingiamo dall'alto verso in basso, impediamo questo flusso di sangue dal basso verso l'alto. Ricordiamo che questo flusso è un flusso venoso, per cui è un flusso che non ha la stessa forza del flusso arterioso. Per cui questa stasi, questo fermare questo sangue, porta a una dilatazione di queste vene, che si sfiancano piano piano a lungo andare, dopo anni e anni e anni, e poi soprattutto questo sangue si ferma per un periodo X e qui ci può essere già una piccola complicanza. Parliamo dei sintomi. I sintomi che mi devono far correre, non tanto dallo specialista, quanto meno, io dico sempre, il primo passo deve essere parlare con il proprio medico di famiglia. Quali sono i sintomi? Allora, dobbiamo distinguere che esistono sintomi e segni in medicina. I sintomi sono il dolore, per esempio, il dolore durante l'evacuazione. Questo non è sempre sostenuto da una patologia moridaria, ma possono esserci altre patologie proctologiche. Sicuramente il segno più importante è il sanguinamento. Cioè, quando c'è un sanguinamento, bisogna andare dallo specialista. Perché? È vero, Monica, nella stragrande maggioranza dei casi, il sanguinamento, soprattutto quando il sangue è di un colorito rosso vivo, rosso acceso, si ritrova magari sulla carta, per cui è un sangue tardivo, è un sangue che arriva alla fine dell'evacuazione. È vero che questo sanguinamento, nella stragrande maggioranza dei casi, è sostenuto e dovuto a una patologia moridaria. Cosa diversa è, invece, quanto questo sanguinamento avviene anche quando non si va al bagno o si hanno delle perdite così ricorrenti. E come facciamo a capire questo? La diagnosi è soltanto una visita oppure, purtroppo, io dico purtroppo perché, insomma, ci tocca fare la conoscopia, professore? Beh, sì, c'è anche un'immagine della conoscopia che possono mettere, che l'abbiamo montata, che ci fa capire che oggi come oggi, Monica, la conoscopia non deve più destare la preoccupazione di una volta, no? La conoscopia è un esame che si fa tranquillamente, è un esame che viene, si svolge rapidamente, con una blanda sedazione. Gli strumenti che si usano oggi sono degli strumenti estremamente sottili, per cui non sono così invasivi come una volta. Non è tanto quello, professore. La conoscopia, Monica, scusami se ti ho interrotto, va fatta sicuramente quando si è superati i 40 anni di età, quando c'è questo sanguinamento, che è sicuramente sostenuto da imorroidi. Però bisogna escludere che a monte, cioè che prima del presso imoridario, non ci possa essere, per esempio, un piccolo polipo che sta sanguinando e che si può togliere contestualmente alla conoscopia e si risolve il problema. Il problema, professore, è la preparazione della conoscopia, perché molti ci scrivono proprio su questo. Una volta, Monica, hai detto come al solito, sei preparatissima, sei veramente brava. Come dire, le ho fatte tutte! No, devo dire che sei un'esperta. È certo. Allora, una volta, Monica, erano i 4 litri di digiune, via dicendo. Oggi esistono delle preparazioni cosiddette short, cioè delle preparazioni rapide, con un litro, un litro e mezzo si beve, si prepara il giorno prima, per cui ci sono dei farmaci oggi che sono molto, molto più rapidi. Per cui il problema della preparazione, cioè l'ultima scusa che si usa per non fare la conoscopia, lo togliamo. La preparazione si può fare, si può fare serenamente, si deve fare perché la prevenzione è fondamentale. Non bisogna pensare che il sanguinamento è sempre dovuto a una patologia emorroidaria, perché è importante, soprattutto dopo i 50 anni, fare questo esame anche per un problema di screening. Abbiamo letto prima il cartello che può essere anche asintomatico. Cioè, può essere asintomatico o nel senso può esserci una sintomatologia vaga, cioè un senso di peso. Abbiamo letto, non so se è passato il cartello, il tenesmo. Cos'è il tenesmo? Una parola difficile. Il tenesmo non è altro che la sensazione di non essere andati al bagno dopo che si è andati al bagno. Cioè, si va al bagno e dopo si ha la sensazione di doverci riandare, di non essersi svuotati completamente. Questo, attenzione Monica, può essere dovuto a una patologia emorroidaria, soprattutto del plesso emorroidario interno. Ma attenzione perché questa sintomatologia, questo sintomo, questo fastidio, può anche nascondere patologie ben più importanti. Importanti. Parliamo delle cure. Come si curano? Allora, le cure, diciamo, sono le più svariate. Quando ci troviamo di fronte a una patologia emorroidaria di primo grado, cioè sono quelle quasi asintomatiche, che non si vedono, non si sentono, le terapie mediche, con dei farmaci, con dei venoprotettori, e via dicendo, portano alla soluzione definitiva del problema. Parleremo, se abbiamo tempo, un po' dello stile di vita, anche di quello che bisogna mangiare, perché anche in questa malattia lo stile di vita, l'alimentazione è fondamentale. Quando le emorroidi, invece, aumentano di grado, diventano più grandi e escono fuori dal canale anale, quando si va al bagno e rientrano magari spontaneamente o viceversa, escono e non rientrano spontaneamente, molte persone, Monica, sono abituate a rimandarle all'interno da sole. E' un fatto, purtroppo, che succede. Ecco, in questi casi, purtroppo, solo l'intervento chirurgico deve essere eseguito. Allora, parliamo dell'intervento, professore. Noi abbiamo messo, in questo cartello che vedete, due grandi famiglie di chirurgia. All'interno di questi due ci sono tanti altri sistemi. Comunque, fondamentalmente abbiamo due possibilità. O l'escissionale, cioè, Monica, si tolgono, si tolgono e il problema è chiuso, è finito. Oppure, si, vedi, c'è scritto prolasectomia, cioè è un lifting, visto che usiamo questi termini, cioè queste emorroidi vengono ritirate all'interno del canale, cioè vengono rimesse nella loro posizione abituale. Il cartello che vedete adesso è proprio l'intervento di lifting, perché abbiamo queste due possibilità. Ma queste due possibilità non è che noi chirurghi le usiamo a casaccio, così come... Certo, dipende. Dipende dal grado di gravità della patologia. La terapia è scissionale, cioè quella più completa, quella dove le emorroidi vengono tolte, quando queste emorroidi non rientrano più nel canale anale. Al contrario, si fa un lifting, cioè si rimandano all'interno del canale anale, cioè si rimettono nella loro posizione abituale, quando queste emorroidi rientrano spontaneamente. Sono dolorosi questi interventi, professore? Beh, dire, Monica, e sarebbe una correttezza, un'unisattezza, che gli interventi pre-otologici non sono fastidiosi, questo non sarebbe carino. Non è una passeggiata di salute. Però ti posso garantire, Monica, e mi devi credere, soprattutto te che sei bravissima, che oggi con le metodiche che abbiamo, i ferri che abbiamo, gli strumenti tecnologici moderni che abbiamo, l'intervento di emorroidettomia o di prolassettomia hanno subito una modifica veramente sostanziale dal punto di vista del dolore. Ci possono essere delle recidive? Se facciamo la legatura, insomma, come abbiamo detto, il secondo tipo di intervento ci possono... Guarda, Monica, in l'ira di massima, se le emorroidi vengono escisse, cioè vengono asportate, per esempio con questo ferro che vediamo, assolutamente no, non possono tornare perché sono state proprio tolte. Quando si fa una prolassettomia, si rimettono all'interno, soprattutto se si è in giovane età e non si cambiano lo stile di vita, a lungo andare, magari dopo dieci anni, dopo un periodo più o meno lungo, queste possono tornare e a quel punto forse l'intervento chirurgico escissionale è assolutamente importante da fare. Allora, diamo delle regole, professore, perché insomma abbiamo un po' anticipato per prevenire tutto questo, no? Le regole sicuramente, lo stile di vita è andare al bagno rapidamente, non perdere tempo e non stare troppo seduta. Non è una posizione, quella seduta al bagno, la più naturale possibile, non è quella. Sicuramente bisogna mangiare le scorie, le fibre, per cui pasta, patate, verdure, frutta devono far parte della nostra alimentazione. Le diete, quelle dove si tolgono la pasta, le patate, le verdure e i carboidrati, sono assolutamente deleterie per chi soffre di emorroidi. E bere soprattutto tanta acqua, bisogna idratare il contenuto intestinale, altrimenti le feci, quando arrivano alla fine del loro percorso, sono disidratate. E a quel punto, per poter andare al bagno, parliamo in modo normale, perché questo è il linguaggio che dobbiamo usare, bisogna spingere, 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 altrimenti non ci si riesce e quello è un momento che non va affatto. Grazie, professor Stefano Archeri, grazie.